Allora oggi è sabato 30 dicembre e a Borno ci sono in questo momento 3 gradi Buongiorno ragazzi, oggi cappello perché è il 30 dicembre del 2023 e con i miei amati qui in essence stiamo andando a Borno in provincia di Brescia per una data aspettando il Capodanno come avete potuto vedere fa abbastanza freschino ovviamente si suona in piazza e quindi sarà abbastanza complicato gestire il freddo ma sicuramente ce la faremo abbiamo qui il nostro Andrea del Signore al quale siete molto abituati ultimamente poi abbiamo la nostra Silvia, ciao! e poi abbiamo, non si può dire, va bene andiamo, ciao! eccoci arrivati questo è il palcoscenico ed eccoci qua ancora con il nostro Andrea del Signore guardatelo che suona proprio vicino all'albero di Natale porca miseria che emozione one two one two check 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 e attenzione abbiamo il nostro Marco Ferranti veramente caldo per questa serata al fresco abbiamo anche Elena hola hola che tal? tu monti la batteria? no questo è un accento tipo magrebino vabbè il comune di Borno è qui nell'alto piano del sole siamo vicino al torrente Etrobiolo in Val Camonica e siamo a 900 metri di altezza praticamente infatti fa abbastanza freschino questa è denominata una delle vette più orientali delle prealti orobiche no da lì non sembrava così carino cioè senza nulla togliere alla visuale che avevo dal palco però bello il Duomo di Borno oggi ci hanno riservato come camerino questo... mausoleo la catapulta ce l'ho, ce l'ho, mi manca ce l'ho, ce l'ho no sei sicuro? no ma cos'è che avevi detto prima che questo è l'elenco dei musicisti morti da freddo nelle annate precedenti un po' di queste versione ci utaniamo la una nuova they've got una vision una vision uno verso la tua luce una Please una примерa wow 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 give me one vision no more no ride I'm gonna tell you there's no passing away No love, no save It is one worldwide vision World of best, world of world, world of true invasion World of race, world of world, world of indecision Whoa, 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 oh yeah, oh yeah, oh yeah I had a dream when I was young A dream of a sweet little child A glimpse of opportunity And this is a world of sweet union It's all in the world I'm talking for anybody So I'm going to talk to my dream Yeah Wild vision Baby, baby Chapeca Magic, 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 magic Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti 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 Radio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Buonanotte Grazie a tutti